giochiamo giochiamo, poltons relief, puttons, reddit stormji, li daqui a e venderli ad esserci un gereglie non piaci, anche non p Ele mentioning and say horrible, Cerca di capire le distanze del microfono. la prova... Mi sto Boggiano... mi sento un cazzo... abbiamo anche la sceneggiatura! Abbiamo un cartoncino guardate che bello guardate che bello 5 euro spesi malissimo E anche il foglio traspare Non si vede che è il foglio traspare Di plastica Di plastica Vemi che almeno lo riutilizzerai Levati un po' davanti alle palle Cioè intendi fare trasformare tutti in damerini Con tutti i perfetti di fisico come l'ha fatto il tuo personaggio Tu va bene che sia una stecca e quindi ci può stare È una questione di Che le persone le fa piacere Vedere il cartone Si mettono dei crassoni Non fa molto piacere vedere sempre dei crassoni Sì ma anche nella rappresentazione comune Ci sono alcuni personaggi anche un po' più portati Hai mai visto un personaggio di un anime ciccione? Sì a volte Un anime bello Sì Un personaggio figo ciccione Forse Ecco Questo non è per niente Sta registrando? Sì Non è per niente product placement Io ti ho dimenticato qua di mettere due frasi Non una Eh non la capo Nicola tu sei pericoloso Diciamo breve Di tu che fai Nel senso Un urlo di dolore Quindi signore Dica Ua No Neanche la telecamera Guarda soltanto tu il microfono Una relazione solo tra te e il microfono Scusa mi stavo cantando Se puoi mettermi in imbarazzo Ci vuole molto meno di quello per metterti in imbarazzo Cioè cosa Vieni un attimo qua Se no il microfono comunque ti sente male da là Allora vediamo Come posso fare a metterti in imbarazzo Guarda Mi carichi su un astronave mirando in imbarazzo Cos'hai detto? Ripeti? Eh basta Vai io Senti le mie battute squadre sono per poco Stai Non sento Non era vero Adesso però sì Ah davvero No 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 Io non ho fatto niente No 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 Io non ho fatto niente No 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 Io non ho fatto niente no 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 io non ho fatto niente no 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 io non ho fatto niente sento una voce sì lo sento è Dio che mi chiama sì lo sento è Dio che mi chiama sì lo sento è Dio che mi chiama qualche commentino invece di giocare al telefono bastardo dovrebbe essere un video in due dai adesso non muovere quella lampada il bello è che io sto con le ciabatte e lui sta senza scarpe perché sennò poi il dislivello di altezza è troppo se no sono così più meno non è vero quello stai esagerando più 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 emozione meno emozione ok ci siamo cazzo ah no aspetta 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 il bagno è già occupato il bagno è già occupato il tono è del porca puttana sono nella merda cioè questo è il tono che devi trasmettere cos'è quello sguardo crepe cos'è quello sguardo crepe cos'è quello sguardo crepe ведь callos guarda Parlo con mia sorella normalmente, quindi diciamo che sono abituato a parlare a un tono di voce abbastanza sostenuto. Sono stato chiaro? Brutto sacco di merda! Smetti di mangiare con la patata di merda! E' come se dopo ci fosse un silenzio, se lo sai che fanno... Poi si sente... In un anime, che tipo di voce ti aspetteresti? Stavo lasciando leggere. Penso così! Che smalte! Sempre diretto al microfono. Se tu vedi, io ti lo vedo che tu giri la testa e ti fai bene. Gira la testa, mettiti così, allora. Gira la testa verso il microfono, così. Io la chiamo serie, tu la chiami stagione. Vabbè. Io la chiamo gelato, tu la chiami riso, patate, non patate risa e cozze. Rizzo, patate e cozze. Congelati. Con le zucchine? No! Quello è il dramma di ogni barrette del milanese che cucina con le zucchine. Va bene, dai, uno ci sarà per forza. Tu non devi parlare mentre parlo io! Se no, da sotto al doppio giro tu, c'è pure... La voce mia, non fai... Ti stacco i peli. Ah, io a crepe, spettila, ti prego! Ah, io a crepe, spettila, ti prego! Più veloce, però. Ah, io a crepe, spettila, ti prego! Voglio vederti soffrire. Ah, io a crepe, spettila, ti prego! Quest'ultimo era... Un scimiesco. Perché mi stavo col pello? Ah, io a crepe! Più lungo! Crepe! Vieni un attimo! Crepe! Vieni un attimo! Crepe! Vieni un attimo! Crepe! Vieni un attimo Crep Vieni un attimo Essendo praticamente la mia serie è un frociaio Sono quattro maschi In realtà c'è tutta una Nella wiki non l'ho ancora messo neanche Non l'ho ancora scritto nella wiki Cioè il ciù dovrebbe Non avere un sesso Crep, toglimi una curiosità Crep, toglimi una curiosità Crep, toglimi una curiosità Da quando abbiamo le barbapietole nell'orto? Da quando abbiamo le barbapietole nell'orto? Guarda io ti faccio il mega zoom così Aspetta In questo momento lo dovrei trovare Aspetta, lui dice assetta Aspetta Ho detto aspetta Non ho detto assetta Visto, ha detto assetta Ho detto non ho detto assetta Visto, ha detto assetta Aotta Pensato di indubbiare Stai dicendo? No, in questo momento lo dovrei trovare se lo vorrei mettere qui Sì lo sento, è il Dio che mi chiama Sì lo sento, è il Dio che mi chiama Sì lo sento, è il Dio che mi chiama Va bene, ho detto io E stavo dicendo Quando questo video pubblicherà Le scomuniche Le scomuniche che tra l'altro mi darò da solo Perché io sono il Papa Io sono il Papa Io sono il Papa Questo cosa si sente Questo si sente Vengono messi sotto sforzo Ho saputo che ci sono i computer che arrivano a 80 gradi Sì ma anche il mio Adorino a 80 gradi Con un rendering Ovviamente cerco di non far arrivare a 80 gradi Altrimenti ci metto sulla bistecca Si appiccica al soffitto Proprio per le correnti ascensionali del caldo Cioè l'aria si riscalda E così calda Che lo fa salire la bistecca Va bene Io sono quello che studio fisica Allo scientifico E dico questo è un cazzato Il mio fisico me li scrego Adesso è poi manapanto Adesso è poi manapanto Adesso è poi manapanto Non suoi spostarli È successo che Missi una volta Sì li ho visti Che stavano Il casino Che ne Missi 90 video insieme La gente cominciò a disiscriversi Perché ha detto Non riesco a vedere più i video di Sasha Gray E quindi Ho avuto quanti iscritti in meno questa stanza? Ah no niente Scusa Ah no niente Ma da quando hai bisogno di fare la spesa? Scusa ma i pani e i pesci non li potevi moltiplicare? Ah Scusa ma i pani e i pesci non li potevi moltiplicare? Si sente? Ok E se apriamo questo pulsante Vado su scritto autodistruzione? Non l'ho mai montato un pulsante C'è la funzione dell'autodistruzione Ma non c'è il pulsante L'hai provato a fargli uno squillo? Hai 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 provato a fargli uno squillo? Mi dispiace questo episodio Ti va malissimo Crep di... Si fai... Non esplode Crep Fa tutto il resto Crep nel ruolo di Chuck Norris Volrei una cabina Che si possa aprire Quando l'apro Meno male che non è mio amico Meno male che non lo conosco La settimana scorsa l'ho incontrato per strada Tu vieni con la barba Vieni qua, devi doppiare Sarai la mia puttana Due me ne mancano Due Meglio a lui che a me Meglio a lui che a me Basta, sarà venuto qualcuno Sarà venuto, basta Grazie per aver visto il video Spero che vi sia piaciuto Se vi va lasciate un bel mi piace sotto il video Magari anche qualche commento sarebbe gradito Ma soprattutto iscrivetevi al canale E in descrizione trovate Tutti gli altri link Per seguirmi ad esempio Da Patreon oppure Il mio sito ufficiale E ricordate che c'è anche la wiki dei personaggi La wiki della serie animata Quindi se volete magari fateci un salto E tutto quanto in descrizione Spero che il video vi sia piaciuto Ciao ciao